Buonasera a tutti e tutte, inizia oggi la seconda settimana di eventi e dibattiti di ResetFest. Intanto io ci tengo a dire una cosa, per me è un grande onore e sono anche molto emozionato di venire a presentare, a moderare questo dibattito a casa di Holol Jackson, sia per il portato di Holol come compagno, come amico, come fratello, ma anche per il portato di Holol e di questa città all'interno delle lotte contro la guerra. Visto che stasera parliamo di guerra, di guerra in Ucraina, ci tenevo a introdurre in questo modo perché mi sembrava una cosa estremamente giusta e corretta. Intanto saluto Andrea Fumagalli che è connesso, Andrea Fumagalli economista e docente dell'Università di Pavia. Ciao Andrea. Ok Andrea dovresti accendere il microfono, mi dicono dalla regia. È vero, è vero, dimentico sempre questo piccolo particolare. Rinnovo i saluti e ringraziamenti. Ciao Andrea, salutiamo anche Carla Macis e Kevin Speranza del Movimento Nobase di Coltano. Ciao Carla e Kevin. Ciao a tutti. Ciao a tutti e tutti. E ovviamente saluto Francesco Pavin che è padrone di casa quindi non ha bisogno di nessuna presentazione. bene e avremo anche due contributi video di Andrew Ross che è un docente di sociologia della New York University e di Antonio Mazzeo che è un giornalista e attivista antimilitarista che sta di base in Sicilia ma è anche lui una vecchia conoscenza di questa città. Bene, io eviterò di dire troppe cose, ci tengo solo a dare alcuni spunti. oggi abbiamo intitolato questo dibattito sulla guerra in Ucraina cercando di trovare alcune coordinate che sono di carattere geopolitico, economico ma soprattutto legate ai movimenti perché credo che in questa fase molto delicata sia necessario mettere alcuni punti e alcuni temi di approfondimento soprattutto per completare e arricchire un festival che abbiamo visto nelle scorse settimane ci sta dando moltissimo a livello di energia teorica e a livello di strumenti di comprensione politica in quella che è una delle fasi probabilmente più delicate della recente storia dell'umanità. Oggi appunto tocchiamo in varie sfaccettature il tema della guerra che probabilmente è l'evento, questo dico una cosa banale, una cosa nota, però è bene soffermarsi su questo evento che ha maggiormente modificato gli assetti globali in questo recente periodo. Alcuni analisti addirittura parlano di una nuova contemporaneità che si è instaurata dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Io credo però da un altro punto di vista che sia estremamente errato, e questo vorrei indagare con gli ospiti e le ospite di stasera, sia estremamente errato leggere questo evento come un qualcosa a sé stante, sia errato leggerlo al di fuori ad esempio di quello che è il portato decennale della crisi ecologica, del capitalismo estrattivo, tra l'altro questa guerra è il prodotto del capitalismo estrattivo. Alcuni hanno parlato della prima guerra climatica su scala globale. Credo che sia sbagliato leggerla senza tener conto del contesto di diseguaglianze estremo che si è venuto a creare nel mondo con la ripresa, col covid e soprattutto con la ripresa forsennata, con questo ritorno forsennato alla nuova normalità neoliberale. Ma è errato anche leggerlo senza tenere presenti alcuni aspetti. Uno, la crisi dello Stato-Nazione, quindi questo nazionalismo di ritorno come simulacro però di una crisi profonda decennale dello Stato-Nazione. Questo è sicuramente un elemento, ma anche di quella crisi, anzi direi del fallimento dell'ordine geopolitico, politico, biopolitico che si è tentato di instaurare dopo l'11 settembre che a mio avviso aveva già avuto una bisaglia grande col ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan nell'agosto del 2021 e con il ritorno dei talebani. Quindi queste sono le cose che si intrecciano con quello che sta succedendo in Ucraina. Con il dibattito di oggi, come avevamo fatto alcuni mesi fa, forse alcuni erano presenti, sicuramente c'era con noi Andrea Fumagalli, vorremmo però puntualizzare alcune cose e leggere ancora una volta questa guerra evitando gli approcci univoci, assoluti, gli approcci che tendono a doverci per forza far schierare con una parte in causa. Questo perché? Perché a mio avviso c'è una complessità, c'è una complessità che non è solo legata a uscire dalla logica della polarizzazione che abbiamo visto col dibattito pubblico, anche purtroppo col dibattito di movimento, ma c'è una complessità che appunto è legata a tantissimi aspetti che riguardano la guerra. Io dopo ad Andrea chiederò, non anticipo, non spoilerò, non anticipo una domanda, chiederò ad esempio, lui ha scritto un pezzo molto interessante sulla questione dell'aumento dei prezzi del gas che non sono proprio legati, o quantomeno sono solamente in parte legati al conflitto in sé, ma si inseriscono in una dinamica di, come dire, speculazione finanziaria estremamente anche inedita per certi versi. È chiaro che il tema della polarizzazione è un tema assolutamente centrale e gli eventi, a mio avviso, delle ultime settimane di questo conflitto lo dimostrano ampiamente. Da un lato abbiamo visto il conflitto dell'Ucraina, la guerra di risposta, tra virgolette, in molti l'hanno definita resistenza, questo è un termine probabilmente un po' ambiguo, magari lo vedremo anche stasera. Sappiamo che appunto l'Ucraina di Zelensky in queste ultime settimane è andata ben oltre quella, con il supporto ovviamente delle armi occidentali, è andata ben oltre quella linea di sud-est che era consegnato il punto all'interno del quale comunque si sarebbero iniziati i negoziati. Dall'altro punto di vista abbiamo visto Putin sicuramente in estrema difficoltà al suo interno che maschera una sconfitta evidente, o quantomeno una sconfitta che sembra evidente dal punto di vista militare, la maschera con repressione forse nata, con i referendum farsa, tra virgolette, comunque che sicuramente hanno qualcosa di anomalo nel Donbass, quindi questa polarizzazione poi si trova proprio sul terreno dello scontro, del conflitto, di un conflitto che evidentemente nessuno ha voglia di terminare. Probabilmente nemmeno gli Stati Uniti o comunque l'Occidente ha voglia in questo momento di terminare. Sullo sfondo c'è però qualcosa di un po' più grande, non c'è solamente un conflitto legato alle parti in causa in Ucraina, ma stiamo assistendo in maniera rocambolesca, in maniera ambivalente comunque alla costruzione di un nuovo ordine bipolare. Quindi c'è il fallimento di quella governance multipolare che si era data negli ultimi anni con la perdita di egemonia degli Stati Uniti e stiamo assistendo a un nuovo ordine bipolare, un ordine che da un lato vede gli Stati Uniti probabilmente usare anche l'Europa che pagherà e sta già pagando le conseguenze più dirette in termini sociali, energetici, lo abbiamo visto, e anche economici di questa guerra, quindi usa il terreno, lo spazio europeo per provare a riconquistare in parte quell'egemonia. Dall'altro punto di vista abbiamo il cosiddetto nuovo ordine di Samarkand. A Samarkand c'è stato questo vertice molto importante tra Cina, Russia e Iran con altri paesi che sta definendo in qualche modo un blocco eurasiatico. Da questo punto di vista io credo che siano per noi estremamente interessanti le proteste, le rivolte che ci sono sia in Iran ma sicuramente anche in Russia. Finisco con una cosa che mi sembra estremamente importante, qua abbiamo i compagni e le compagne di Coltano, è una cosa che a mio avviso probabilmente è il punto centrale proprio in questa città che ha avuto uno dei movimenti più grandi contro la guerra e contro l'espressione territoriale della guerra. Il punto di vista dei movimenti, come in questo momento i movimenti possono in qualche modo giocare un ruolo al di là della retorica, al di là di appunto gli schieramenti, qual è il tema? Probabilmente quello di costruire, e qua cito Toni Negri che ha fatto un bellissimo intervento domenica scorsa è quello di costruire una nuova idea, una prospettiva costituente che veda nel rifiuto della guerra, nella questione del reddito, nella questione ambientale, nella questione transfeminista, lo aggiungo io, sicuramente le fila che dobbiamo provare a unire per riottenere una prospettiva antimilitarista che probabilmente è diversa da quella che giocavamo vent'anni fa col movimento no global. Io mi taccio, ho detto anche troppo, prima di interagire con i nostri ospiti in call e con Francesco, però manderei subito un contributo di Andrew Ross che entrerà nel merito di questo conflitto alla luce però di quello che è il portato che hanno avuto gli Stati Uniti negli ultimi anni con uno sguardo molto attento a quello che succede e successo succede e succederà nel sud globale.